5 piante succulente con fiori bellissimi. Scopriamole insieme. Ciao, benvenuta o benvenuto in questo nuovo video di pianta succulenta. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. Non dimenticare di lasciare un like ed un commento se hai domande o consigli. Grazie e buona visione. 5 piante succulente con bellissimi fiorellini. Le piante grasse con fiori rappresentano una scelta ideale per la decorazione di interni ed esterni, poiché uniscono una sorprendente bellezza a un basso bisogno di manutenzione. Conosciute in botanica come succulente non cactacee, queste piante sono caratterizzate da fusto, foglie e radici particolarmente carnose, che permettono loro di immagazzinare acqua e sostanze nutritive per sopravvivere durante periodi di siccità. Grazie alla loro incredibile capacità di adattamento, esiste una vasta gamma di specie di piante grasse, ciascuna con forme e colori unici e sorprendenti, rendendo queste piante un elemento di grande interesse per qualsiasi ambiente. Argyroderma. Una pianta succulenta unica, conosciuta per la sua forma peculiare e simile a un uovo diviso a metà. Questa pianta ha un colore straordinario che varia dal verde al blu all'argento, e produce grandi, vivaci fiori rosa e rossi. Un tratto distintivo di questa pianta è la sua fioritura invernale, che fornisce un tocco di colore durante i mesi più freddi. Questa pianta è un'opzione ideale per l'arredamento interno grazie alla sua curiosa forma e alla spettacolare fioritura. L'Itops o pietre vive. L'Olland hops, conosciute anche come pietre vive, sono tra le piante grasse più affascinanti e singolari. Queste piccole piante succulente, rotonde e variamente colorate, sono così simili a sassi che, finché non fioriscono, possono facilmente essere scambiate per tali. I loro grandi fiori bianchi o gialli sbocciano da una fessura che divide la pianta, e possono raggiungere dimensioni paragonabili a quelle della pianta stessa. Queste piante richiedono un'abbondanza di luce solare e prosperano in un intervallo di temperatura compreso tra 15 e 30 gradi. Sempervivum arachnoideum. I Sempervivum, noti per la loro resistenza e la loro prolificità, comprendono diverse varietà di piante grasse da fiore. Il Sempervivum arachnoideum è particolarmente noto e riconoscibile grazie al suo sottile strato di filamenti che ricordano una ragnatela. Nonostante la breve durata dei suoi fiori, questa specie è generosa nella produzione di questi, rendendola un'aggiunta affascinante a qualsiasi collezione di piante grasse. Pleiospilos. Le piante Pleiospilos, imparentate con le litops o piante di pietra, sono piante grasse di piccole dimensioni con due o quattro foglie disposte l'una di fronte all'altra. Non superano generalmente gli 8 cm di altezza, ma i loro fiori possono essere grandi quanto la pianta stessa. Queste piante sono ideali per interni, poiché richiedono protezione da temperature inferiori a 6 gradi, rendendole un'aggiunta interessante alla collezione di piante grasse da interni. Calancoe Blosfeldiana. La Calancoe Blosfeldiana è una delle specie di piante grasse più popolari e coltivate nelle case, grazie alla sua resistenza e semplicità di cura. Di solito utilizzata come pianta da interno per il suo valore ornamentale e la sensibilità al freddo. Può essere coltivata all'aperto in aree con inverni miti o se adeguatamente protetta dal freddo. Le sue foglie carnose fungono da riserva idrica, conferendole grande resistenza alla siccità, rendendola una pianta ideale per i principianti. Con una crescita lenta e un'altezza massima di 30-40 centimetri, questa varietà è spesso utilizzata come centrotavola durante la stagione invernale. La Calancoe fiorisce alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera, ma è possibile trovare piante in fiore tutto l'anno nei negozi e nei garden center grazie alla induzione della fioritura. Le piante succulente che fioriscono sono note per la loro bellezza, la resistenza e la capacità di fiorire in una serie di condizioni. Questi fiori possono spesso essere molto colorati, vibranti e possono variare in dimensioni da molto piccoli a molto grandi, a seconda della specie. Alcuni possono anche avere un profumo gradevole, altre invece hanno odori davvero sgradevoli. Non tutte le piante succulente producono fiori vistosi. In alcuni casi, i fiori possono essere molto piccoli o non apparire affatto se le condizioni di crescita non sono ottimali. Tuttavia, quando una succulenta fiorisce, è un segnale che la pianta è sana e felice nel suo ambiente. È importante notare che, mentre la fioritura può essere un'aggiunta bella e interessante alla pianta, può anche richiedere molta energia alla pianta. Dopo la fioritura, alcune piante potrebbero sembrare un po' affaticate o malate. Questo è normale e la pianta dovrebbe riprendersi con le cure adeguate. Inoltre, molte succulente producono fiori su lunghi steli che possono essere facilmente rimossi una volta che il fiore è appassito. In alcuni casi, la rimozione di questi steli può stimolare la pianta a produrre più fiori. e attiva la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. 5 piante succesi